Su eccellenza, lei ha avuto l'ennesimo incontro con i lavoratori dello stabilimento. Da loro parte un'invocazione d'aiuto. Le chiedo come sta intervenendo la Chiesa e questi incontri, quale finalità hanno? Io credo che tutto questo abbia almeno due prospettive. La prima, immediatissima, è quella di aiutare la gente a pensare, a sollecitare la creatività, a dare forza, coraggio, consolazione, speranza. Noi non possiamo vivere nella depressione, non possiamo vivere in uno stato di rassegnazione perché appunto si vedono tanti nostri cari lavoratori che perdono ogni giorno il lavoro. Non possiamo vivere così. Quindi per me è importante, chiaramente con tutta la comunità ecclesiale, far capire loro che noi ci siamo. E chiaramente un'assemblea di questo genere ha voluto essere fondamentalmente un segno di speranza, di consolazione, ma ripeto, di riflessione seria su quello che sta accadendo. In secondo luogo, io penso che tutto questo aiuti a formare una mentalità. Perché è questo a cui io, a dire il vero, tendo. Certo, capisco che sarebbe meglio se io riuscissi a dare il lavoro oggi stesso o domani o dopodomani a delle persone che evidentemente lo chiedono. Però tutto questo, almeno in questo momento, non è possibile. Però quello che è possibile è che noi dobbiamo cambiare la mentalità. Cioè dobbiamo in qualche modo liberarci da tutte quelle forme di dipendenza e saper creare lavoro. E il creare lavoro lo si può fare solo se noi riusciamo a svezzarci e soprattutto sappiamo camminare con le nostre forze. Ecco, lei diceva, sottolineava, che non bisogna rassegnarsi, che la Chiesa è vicina, ma in termini molto più pratici, al lavoratore, che non sta portando nulla a casa, con i figli a carico e la moglie. Cosa diciamo? I soldi da dove arrivano? Se noi ci diamo la mano, tutti assieme, tutte le istituzioni ecclesiali, civili, e poi le varie agenzie educative, la scuola, la famiglia, e poi ancora, immagino, gli imprenditori, liberandoci da quelle spire di male che c'è, ovviamente, che interferisce e crea ancora di più difficoltà nel poter, perché non dobbiamo dimenticare che i nostri lavoratori, purtroppo, il soldo facile lo possono trovare. E allora, evitare questo per me è molto importante, perché sono convinto che proprio nella collaborazione di tutti noi possiamo trovare la soluzione per ciascuno.